Stefano Piggini, altra prestazione un po' blanda ma comunque sono arrivati tre punti. Sì, una prestazione importante, una vittoria importante, indipendentemente dalla classifica, anche che erano affrontando una squadra che ha zero punti, dobbiamo comunque dimostrare di esserci e di giocarci questo campionato fino alla fine. Proprio in questo tipo di partite magari c'è il rischio di entrare con troppa rilassatezza, di concentrazione e trovare la giornata negativa, anche in virtù del grande caldo che c'è stato. Esatto, oggi c'è anche un caldo inaspettato e poi mai sottovalutare le partite, bisogna giocare con la stessa cattiveria da la prima fino all'ultima passifica. Tu sei uno dei giocatori più utilizzati, il mister conta molto sui temi, quindi anche in questo tipo di partite in cui dà spazio alle cosiddette seconde linee invece tu trovi sempre un minutaggio importante. Sì, comunque il mister si fida di me e cerca di mettere in campo con tutti sempre la formazione migliore per poi dare spazio, se la partita si mette bene, a tutti i giocatori e anche a quelli che vengono meno utilizzati durante il campionato.